Coltivazione di due fra i più saporosi frutti di mare, ostriche e mitili, volgarmente detti cozze, a Taranto. Alla pesca di questi molluschi è stato provveduto fin dalla primavera, deponendo nel mar grande delle fascine, che dopo un certo tempo vengono ritirate cariche di piccole ostriche e cozze. Si provvede allora a tagliare i rami con i grappoli di ostriche o i fusi di cozze e ad intrecciarli nelle maglie di funi vegetali, formando i cosiddetti pergolai. Questi verranno appesi a funi tirate frappafitte, disposte nel mar piccolo, ciò che permette di seguire lo sviluppo della coltivazione. Periodicamente i pergolai vengono ritirati dal mare ed esposti al sole per distruggere i parassiti che muoiono fuori dell'acqua, mentre cozze ed ostriche resistono più i giorni. La raccolta definitiva ha luogo quando questi frutti di mare sono adulti e Taranto rifornisce così molti mercati della penisola di mollusti freschi e gustosissimi, per la soddisfazione dei buon gustai.